ciao a tutti bentornati al canale youtube di IndyVault io sono Bruno Marbera e in questo video abbiamo un ospite speciale Paolo Pedercini di Molla Industria ciao Paolo ciao a tutti Paolo ci ha concesso un'intervista in occasione del rilascio dell'ultima produzione di Molla Industria che si chiama The Best Amendment diciamo brevemente che cos'è è un videogioco che diciamo fa un po' di satira sulla National Rifle Association che è l'associazione appunto americana dei in pare dei possessori di armi da fuoco dico male sì e neanche una lobby molto importante esatto che ricorderete ultimamente è stata anche un po' al centro della discussione sui videogiochi perché in seguito alla strage di Sandy Hook quella in cui uno spostato un pazzo è andato e ha massacrato bambini insegnanti in una scuola americana non mi ricordo dove era di preciso scusa nel Connecticut nel Connecticut nord nord est esatto e la reazione è stata naturalmente da una parte di voler limitare la circolazione delle armi e dall'altra appunto c'è stata la NRA che non soltanto era contraria è contraria alla limitazione del possesso della circolazione delle armi ma addirittura ha proposto di istituire una guardia armata a difesa delle scuole secondo la logica che è impossibile difendere le scuole se non attraverso appunto l'istituzione di una guardia armata che faccia da controllo faccia da deterrente verso contro gli esploati di questa gente che appunto un giorno prende va e ammazza tutti e tra l'altro non so guardie armate hanno proposto anche armare gli insegnanti e addestrarli all'armi da fuoco sì infatti mi pare tu stesso hai linkato il comunicato ufficiale forse l'ho trovato io da altri siti dove dicevano che pensate a robe tipo pensate se qualcuno vi entra in casa non vorresti avere un'arma sotto al cuscino o qualcosa del genere comunque loro la mettono su questo piano che se qualcuno ti attacca la cosa migliore la cosa migliore che puoi fare è di avere tu stesso un'arma per contraattaccare non fanno un discorso a priori insomma di limitare la circolazione delle armi e tra l'altro c'è stata anche questa cosa un po' tra virgolette ironica nel senso che sempre l'NR ha accusato i videogiochi violenti facendo un discorso del tipo ah voi pensate alle armi invece i nostri ragazzi sono vittima dell'influenza dei videogiochi violenti ciò nonostante subito dopo ha commercializzato un proprio gioco in cui per ios in cui appunto bisognava sparare l'obiettivo era di sparare in un poligono di tiro se non mi sbaglio qualcosa del genere quindi il gioco della dell'NRA a dire la verità sono varie però comunque ne è stato commercializzato anche uno proprio subito dopo la strage di Sandy Hook subito dopo questa dichiarazione mi sbaglio sì devo dire che molti mi hanno chiesto e ho letto molti commentatori riflettere su questa apparente assurdità prima prima del dire oh c'è questa industria fantasma che vende pornografia di violenza e l'industria dei videogiochi e subito dopo una settimana dopo rilasciare questo questo videogioco secondo me non è quello cioè è difficile entrare nella nella forma mentis del conservatore americano dei conservatori americani con un approccio logico non è non è molto differente dalla nostra destra in Italia non è non è il caso di di fare sottigliezze nella logica perché non questi discorsi non ragionano queste narrazioni non non seguono una logica propria quindi ci si nutrono di contraddizioni in un certo senso e idiosincratiche tipicamente la sinistra qui o il centro sinistra qui cerca di appellarsi a dei ragionamenti razionali e dire ma se vedete ci sono altre altre altri stati che che giocano alle stesse videogiochi ma c'è una corrispondenza abbastanza di diretta fra il numero degli armi in circolazione e la violenza per conto attraverso attraverso armi da fuoco quindi non è la correlazione non avviene attraverso videogiochi ma avviene attraverso la proliferazione di armi da fuoco ma quello è un ragionamento logico che secondo me non non funziona nel capire diciamo la mente del conservatore tipico specialmente qua negli Stati Uniti qui quello che succede è che le armi e il possesso di armi è una cosa che diciamo risiede più nel profondo dell'identità di questo stato di questa nazione il possesso di armi è quello che divide sostanzialmente i progressisti froci sinistroidi da i veri americani quelli che si vedono come i veri depositari della tradizione americana della frontiera della conquista e in un certo senso anche degli stati sconfitti dalla guerra civile c'è ancora quella una sorta di rancore che scorre profondo quindi quando si parla di definizione dell'identità una specie di subnazionalismo la logica non funziona non è non li convinci per per mezzo della logica quindi con forse anche per quello che ho voluto fare un gioco che non fosse semplicemente contro contro le armi da fuoco o direttamente non so diciamo chiaramente contro le armi da fuoco perché è un gioco che si si basa sullo sparare e che non ha timore di presentare lo sparare come qualcosa di divertente sì appunto ci agganciamo adesso appunto a the best amendment che è appunto il gioco che è stato creato da molla industria come funziona questo gioco in pratica è un arena shooter a quattro dimensioni come lo hai definito giusto sì più o meno non ha quattro dimensioni però diciamo ce ne ha due a malapena a quattro dimensioni perché comunque entra in ballo anche la dimensione temporale perché si controlla questo personaggio a forma di cilindro bianco che non so è un riferimento a certe sette certe associazioni americane razziste o è così casuale semi casuale e si controlla questo personaggio che deve raccogliere delle stelle all'interno dell'area di gioco un'area di gioco rotonda e deve al contempo ammazzare i suoi nemici che sono uguali a lui soltanto con di colore nero che a loro volta rilasciano delle stelle diciamo che c'è una stella iniziale che viene rilasciata liberamente nell'area di gioco e poi tutte le altre che bisogna raccoglierle uccidendo i nemici bisogna raccoglierle un certo numero entro il limite di tempo per passare al livello successivo dov'è il twist del gioco nel fatto che ad ogni livello i nemici che si affrontano sono in realtà delle copie del giocatore e dei suoi movimenti nei livelli precedenti quindi una meccanica che magari è stata vista anche in diversi platform in braid stesso mi pare che ci fosse qualcosa del genere in alcuni dei livelli o sbaglio in cui si creavano copie del giocatore che si muovevano diciamo indifferita tra virgolette rispetto al giocatore stesso ci sono vari non mi ricordo non ho presente brave perché non sono mai non ho mai raggiunto i livelli avanzati però ci sono ce ne sono vari di solito collabori con te stesso esatto anche mi pare un altro che si chiamava the company of myself qualcosa del genere non conosco quello ma è un meccanismo abbastanza relativamente semplice da implementare semplicemente salvi le posizioni e li riproduci però c'è uno che si chiama cursor 14 o qualcosa del genere in cui sei in lotta contro il tempo ma solo collaborando con te stesso puoi vincere bisogna quindi affrontare delle copie di se stessi e che oltre appunto a riprodurre i movimenti riproducono anche gli spari che uno quando uno fa fuoco appunto nel passato tra virgolette nei vari precedenti per cui alla fine se non si pianificano bene le proprie azioni ci si ritrova ben presto in situazioni abbastanza complicate piogge di proiettili e niente così e poi tra un livello tra una partita e l'altra ci sono degli intermezzi che un po' prendono in giro diciamo la le varie indicazioni e suggerimenti che vengono dati nei nei videogiochi mainstream c'è una schermata in cui c'è scritto a se ti senti nervoso fai una pausa e poi un'altra in cui c'è una macchia di rorschach viene detto cosa ci vedi dentro e uno può dire che cosa ci vede dentro così da misurare tra virgolette proprio la propensione verso verso la violenza e un'altra ancora viene credo almeno che venga finto un controllo del background del giocatore viene detto a dobbiamo fare un background un controllo del tuo background per capire se non mi ricordo male se puoi giocare questo gioco se sei se puoi essere abilitato a giocare questo gioco insomma molta ironia e anche io personalmente ci ho visto anche una specie di perché poi alla fine i giochi che di molle industria hanno sempre queste meccaniche che sono molto lo dite sono andato a vedere il mio sito di molle industria c'è scritto noi vogliamo fare dei giochi che abbiano un gameplay tra virgolette vero cioè non come certi giochi che magari sono autoreferenziali e che non e che evitano tra virgolette il gameplay da videogioco per veicolare un messaggio voi se non ho capito male tu con il tuo collettivo appunto molle industria volete veicolare dei messaggi però comunque attraverso delle meccaniche che siano meccaniche da videogioco mi sbaglio sì diciamo che quando quando iniziato questo progetto un po di anni fa l'approccio standard per artisti e game designer diciamo che fossero interessati a diciamo ad approcciare certe tematiche sociali l'approccio standard era quello di prendere un videogioco un meccanismo di gioco classico che so frogger o space invader e trasformare diciamo cambiare la grafica cambiare la storia oppure fare diciamo un gioco storia un gioco basato sulla sulla trama dialoghi e cose simili è un approccio possibile solo che la mia la mia convinzione era che per diciamo nuove idee necessitano nuove forme e dopo un po la gente si stufa anche di vedere cloni di space invader che che cercano di fare non so satira su varie questioni sociali quindi l'idea è quella di creare e immaginare nuovi sistemi di gioco per esprimere nuove idee che non sono generalmente espresse nei video giochi ecco quello che che intendevo è che ad esempio appunto in the best management c'è questo gameplay che comunque è carino e divertente cioè se tu avessi fatto lo stesso gioco però invece di metterci gli incappucciati bianchi bianchi contro gli incappucciati neri ci avessi messo che ne so un marine spaziale del futuro che torna indietro nel tempo per salvare il mondo da se stesso magari ci sarebbe uscito fuori anche un tra virgolette una hit un po più vendibile spendibile sul mercato tra virgolette non mainstream però che ne so tipo quelle che ogni tanto saltano fuori anche nei portali flash e robe così quindi insomma il gameplay l'idea di gioco c'è mentre per esempio un gioco che anche so che è apprezzato come disforia di anna antop io ci ho giocato e dal punto di vista della storia disforia è molto molto pregno però poi dal punto di vista del gameplay è un po una collezione di mini game non tanto alla space invaders però più o meno siamo lì come in gameplay molto semplice a volte semplicemente premere un pulsante per per andare avanti eccetera eccetera quindi era questo diciamo il punto che volevo sottolineare che i giochi di nuovo l'industria comunque veicolano un messaggio però lo fanno secondo me in una maniera abbastanza raffinata appunto come in questo caso c'è il uno può immaginare che da questa meccanica di gioco uno ci riflette sopra un attimo almeno io ci ho riflettuto sopra un attimo e mi è venuto da pensare che innanzitutto appunto classico quasi banale la violenza genera violenza addirittura nel gioco comunque si può fare una scelta semplicemente di non sparare non sparando si può continuare tra virgolette a vivere all'infinito anche se poi comunque non si vince il gioco perché per vincere tra virgolette il gioco bisogna raccogliere le stelle e sparare alle proprie copie quindi un po ci ho visto come se c'entrasse anche un po l'avidità nel senso che se io voglio raccogliere le stelle tra virgolette una metafora dell'avidità e quindi devo uccidere gli altri devo anche un po uccidere me stesso uccidere magari non lo so la mia parte buona quello che è e mettere a rischio la mia vita e mettere a rischio la vita degli altri mettere a rischio la mia stessa identità pur di vincere pur di competere quando invece potrei vivere tranquillamente se non fossi alla ricerca del di una vittoria tra virgolette che poi alla fine un ciclo che non non si riesce a spezzare si si va avanti soltanto con la morte degli altri oppure con la morte di se stessi tutta questa riflessione viene da un da un gameplay non da un da una collezione di cutscene o di eventi diversi o di una storia narrata in maniera più o meno interattiva e adesso non lo so quanto di quello che ho detto corrisponde all'intenzione che avevi al messaggio che intendi veicolare più o meno sì perché no è molto bello perché ci possono essere varie interpretazioni io personalmente non disdegno i giochi basati sulla storia certe volte anche nel mio caso ho trovato che non certe cose non possono essere espresse semplicemente attraverso un gameplay e diciamo la narrativa il testo la voce può veramente cambiare le cose e il gioco precedente uno dei miei preferiti probabilmente ammanned è fatto molto narrativo c'è un po di gameplay e ci sono delle scelte da fare però la maggior parte per la maggior parte è espresso attraverso personaggi e dialoghi e monologhi guarda se posso inserirmi un secondo io ammanned l'ho trovato molto mi ha colpito molto il fatto che un po come poi si è visto anche nel mainstream tra virgolette in the walking dead ha questo sistema di scelte multiple che però vanno a influire sul sulle azioni tra virgolette arcade che uno deve compiere cioè non so poi ripeto magari un'interpretazione solo mia però c'è questo gioco che è diviso a metà parte destra e parte sinistra nella parte sinistra bisogna fare delle scelte mandare avanti dei dialoghi mentre nella parte di destra bisogna compiere delle azioni si parte no dal farsi la barba poi bisogna controllare un un drone e al tempo stesso bisogna portare avanti dei discorsi con con se stessi mentre ci si fa la barba con la collega mentre si controlla il drone eccetera eccetera e questo a me è sembrato un bel balzo in avanti rispetto ai soliti sistemi di dialogo che si vedono nei giochi perché di solito nei giochi i sistemi dialoghi funzionano che il gioco si ferma e cosa vuoi fare abc la scatola la scatola la scatola b la scatola c mentre in amend c'è questa i dialoghi sono anche più carichi tra virgolette proprio perché avvengono mentre uno fa qualcos'altro e quindi bisogna dividere la propria attenzione tra una parte tra virgolette pratica pragmatica e una parte tra virgolette più cerebrale e al tempo stesso questo veicola anche un po quello che io ho percepito come il messaggio del gioco nel senso che abbiamo questo protagonista che diventa un po macchina nella nella sua vita nella parte pratica della sua vita unmanned quindi non umano anche in questo senso e quindi c'è questa parte meccanica della sua vita che va in conflitto con la parte interiore della sua vita con i dialoghi che appunto devono essere gestiti nei ritagli di tempo mentre lui fa le sue robe pratiche quindi magari se ci si concentra di più che ne so sul farsi bene la barba non si riesce a concentrarsi sui sui pensieri interni oppure se ci concentra sui pensieri interni ci si taglia mentre ci si fa la barba oppure se ci si concentra sul controllo del drone non ci si è la collega che con cui si parla in quel momento reagirà male perché non le rispondiamo in tempo e tutta questa serie di finezze che a me hanno colpito molto perché appunto sono delle sono tutte sfumature sono tutti dettagli che poi però alla fine hanno un significato secondo me ripeto adesso magari mi direi di nuovo che il mondo è bello sicuramente c'è quell'aspetto del tema della disconnessione in parallelo con la disconnessione di un soldato che combatte diciamo che è a casa ma è anche sul fronte in un senso remoto c'è questo dualismo fra azione e pensiero dialogo diciamo le funzioni verbali dei giochi diciamo narrativi e le funzioni meccaniche puramente meccaniche dei di abilità che fanno riferimento a diciamo i giochi più basati sul gameplay e lo skill la destrezza diciamo così ci sono altre cose che che succedono attraverso idea e le scelte multiple che sono probabilmente non quello che accade tipicamente nel dialogo a scelta multiple per esempio di solito quando hai dei dialoghi con dei personaggi non giocanti con degli NPC vuoi ottenere informazioni vuoi ottenere qualcosa di specifico quindi vai più o meno in ordine e cerchi di capire dove andare o cerchi di convincere questi personaggi a darti delle informazioni degli oggetti speciali quindi l'esplorazione all'interno del dialogo dell'albero del dialogo è molto funzionale in ammenda l'idea è quello di fare di avere scelte che sostanzialmente definiscono il personaggio quindi puoi decidere che tipo di protagonista è in un certo senso è simile a Walking Dead che è uscito dopo ho notato certi paralleli anche Kentucky Route Zero anche lì alla fine si fanno delle scelte multiple che però alla fine definiscono il protagonista e non l'andamento della storia insomma una cosa che volevo chiederti e lo diciamo anche prima di iniziare a registrare The Best Management è stato segnalato anche su Games Industry che ha riportato anche delle dichiarazioni che hai fatto che mi dicevi che sono state riportate un po' fuori contesto e una in particolare diceva che si parlava di sostanza della sostanza dei giochi e lì Games Industry ti ha citato dicendo che tu appunto hai detto che tutti i giochi hanno una loro sostanza anche Call of Duty ha una sostanza però nel caso di Call of Duty questa sostanza è un potente narcotico che appunto fa sì che la gente non scenda in piazza non scende in strada a marciare contro una guerra che ormai dura da esattamente dieci anni e questo è quello che riportava Games Industry più non so se vuoi spiegare meglio cosa intendevi era più o meno un gioco di parole sull'idea che tutti i giochi hanno una sostanza e non c'è la domanda l'intervistatore sembrava presupporre che esistono dei giochi di sostanza e dei giochi senza sostanza superficiali o fini a se stessi e quello è un po' un concetto che cerco di evitare di solito secondo me tutti i giochi sono prodotti culturali e tutti i giochi hanno dei valori e producono delle rappresentazioni del mondo e sostanzialmente contribuiscono al modo in cui percepiamo il mondo che ci circonda contribuiscono alla creazione di modelli anche Tetris è sempre a riguardo di qualcosa rappresenta qualcosa nel caso di Tetris che è un tipico esempio di gioco super astratto Tetris parla di ordine contro disordine contro entropia questa l'impossibilità di vincere contro la macchina o contro un'accumulazione di entropia e di disordine quindi ci sono dei temi anche in tutti i giochi tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente essere consapevoli di questi temi quindi quando il giorno dell'intervista era l'anniversario dei dieci anni dell'attacco in Iraq quindi esattamente dieci anni dopo che quelle bombe sono iniziate a cadere e quindi secondo me secondo me esiste una sostanza diciamo il feticismo per gli apparati militari il feticismo per le armi anche se non producono direttamente violenza comunque contribuiscono al rinforzo di una serie di valori aggressione militarismo che sono onnipresenti nella nostra società nessuno è d'accordo a questo punto dieci anni dopo nessuno è d'accordo è particolarmente felice dell'iniziativa militare in Iraq nemmeno qui negli Stati Uniti però non c'è molto di senso non lo senti non lo vedi perché l'unica diciamo presenza a meno che non hai persone che conosci familiari sul fronte l'unica presenza della guerra è attraverso i media e la tv non ne parla parecchio non ne parla molto perché la gente non vuole sentirne parlare i film critici sulla guerra documentari critici sulla guerra non hanno molto successo a volte ci sono delle eccezioni ma quando specialmente rappresentano la guerra in maniera critica la gente non vuole sentire storie di come certi interventi non stiano funzionando e cose del genere e dall'altro lato hai i videogiochi in cui i giochi diciamo sul tema dei conflitti più o meno contemporanei più o meno moderni sono fra i più venduti ancora anche se gli fps non sono più probabilmente il genere dominante come erano un po' di anni fa sì diciamo che sono un po' in fase di saturazione barra stagnazione però almeno a quanto ne so sì le vendite sono in leggero calo però mi sa che ancora se non dominano comunque non è che se la passino neanche male no io il fatto del questa a me è rimasto un po' impresso questa definizione di narcotico io l'ho preso un po' dal punto di vista che giochi come Call of Duty appunto producono sostanzialmente due effetti o inducono le nuove generazioni giovani ad arruolarsi o comunque a vedere o appunto inducono le persone ad arruolarsi oppure le inducono a considerare la guerra come un qualcosa di se non giusto comunque normale accettabile da accettare o al limite un male necessario e quindi in questo senso narcotizzano le coscienze per cui la gente non va non va a protestare perché più o meno veicolano quest'idea che la guerra è un qualcosa di inevitabile di normale va accettato non so se può essere un'interpretazione corretta secondo me sì funziona di più più che non credo non credo ci sia una correlazione forte fra giocatori videogiocatori e arruolamenti anche se di fatto si sa che i soldati al fronte giocano ai videogiochi continuamente di solito non giocano, può essere interessante notare come di solito non giochino giochi diciamo realistici come Call of Duty ma preferiscono quelli diciamo un po' distanti dalla loro realtà quotidiana tipo Space Marine, Halo, kind of jokey e sì secondo me funziona più come diciamo normalizzazione e come diciamo produrre un'immagine una rappresentazione che è in un certo senso opposta alla realtà quotidiana della guerra la realtà quotidiana della guerra a quanto pare non è particolarmente violenta non è eccitante, non è adrenalinica, è più che altro noiosa, è più che altro molto stressante perché la realtà quotidiana del soldato al fronte in Afghanistan o Iraq sostanzialmente è muoversi da un punto all'altro e sperare di non saltare in aria per via delle bombe nascoste sotto l'asfalto e cose del genere per me c'è anche una forte, sarei perfettamente d'accordo con una proliferazione di giochi di guerra che in un certo senso glorificano la guerra ma anche la rappresentano in maniera diciamo realistica realistica non in senso visivo, in senso sonoro ma realistica in senso di come la meccanica della guerra comunque il punto a cui volevo arrivare e ti prego di perdonarmi in anticipo se la domanda potrebbe risultare un po' provocatoria è che alla fine non c'è il rischio anche che i giochi come quelli che fai tu o come altri giochi impegnati possono essere anch'essi un narcotico come può essere per esempio un narcotico il fatto di invece appunto di scendere sulle strade a marciare contro la guerra andare su facebook e fare la petizione online oppure fare attivismo tra virgolette web cioè io magari mi scarico è un ottimo punto che spesso mi trovo quando collaboro con clienti o in questo momento sto proprio lavorando con una no profit riguardo la tassazione delle corporation un punto che cerco di portare avanti è che non mi piace quando i videogiochi diciamo politici o critici fanno, diciamo rappresentano il conflitto in un senso catartico secondo me i giochi di questo tipo dovrebbero dovrebbero creare domande creare diciamo dilemmi morali ma non provvedere le risposte non fornire le risposte belle pronte soprattutto non dovrebbero dare l'idea non dovrebbero creare l'azione di trasformazione all'interno all'interno del gioco non dovrebbero simulare il cambiamento all'interno del gioco o magari forse accennare a una possibile altra via ma non sostanzialmente surrogare quello che solamente un'azione politica o un impegno sociale può effettivamente creare ed è questo il motivo per cui in molti giochi tipo quello del McDonald's o i Ligarchi non sei l'attivista contro il McDonald's non sei l'ambientalista ma sei diciamo i cattivi sei la parte che dovrebbe essere criticata non perché voglio che la gente diciamo si identifichi o capisca quali sono i problemi del governare una multinazionale ma perché secondo me certe cose possono essere viste più chiaramente dalla prospettiva di una prospettiva di potere una prospettiva diciamo privilegiata e se provo a vedere raramente i miei giochi diciamo simulano o rappresentano le cose giuste da fare in qualche istanza in qualche esempio si è accaduto ma cerco di evitare esattamente per quel problema non voglio dare l'idea che oh bene ho salvato il mondo virtuale e ora sono a posto ho capito senti un'altra domanda un po' correlata se e sempre mi perdonerai se è un po' prorogatoria se un giorno magari tra un milione di anni vivessimo in una società autopistica dove non ci siano mica corporazioni che sfruttano i poveri dove non ci fossero problemi di discriminazione insomma una società perfetta se vivessimo in una società così tu che tipo di giochi faresti? oh lo dico sempre farei giochi farei giochi astratti farei giochi tipo che cosa? tipo giochi di cactus farei giochi sparatutto probabilmente farei farei giochi sparatutto tipo alla Call of Duty? no 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 cosa diciamo farei giochi completamente astratti cercherei di di diciamo qual è il 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 gameplay meno rappresentativo non mi vengono molti esempi ma non so se si presenta Alice o Elise un gioco per iPhone no purtroppo no magari una roba tipo Andres Or Hexagon quello che farei non necessariamente basati sullo skill ma diciamo non rappresentativi e interessanti da vedere diciamo cose che diciamo incentrate sui visuali astratti quella cosa che farei in un mondo perfetto una domanda così una curiosità come nasce la tua passione per i videogiochi come e perché poi hai scelto di di proseguire su questa strada di invece che con altre forme di espressione forme d'arte ma in verità facevo un po' di tutto più o meno all'inizio anni 2000 avevo un gruppo musicale facevo fumetti facevo delle fanzine e soprattutto facevo siti per diciamo partiti e organizzazioni di movimento e a un certo punto stavo anche studiando design e quindi stavo studiando diciamo web design e interazione diciamo contenuti interattivi sì come iniziate sostanzialmente ho fatto un gioco all'interno di una campagna referendaria e mi sono trovato bene in un certo senso ho detto non sarebbe mai se ci fossero più giochi di questo genere ha ottenuto una buona risposta in un certo senso e quindi ho deciso di espandere il progetto facendo creando un po' più di esempi che erano i primi tre o quattro giochi che ho rilasciato sotto il nome di Mollindustria ho fatto qualche gioco prima in cos'era quando ero in un istituto tecnico ho fatto alcuni giochi con il vecchio click and play che è diciamo l'antenato di game e anche quelli avevano in un certo senso erano abbastanza simili a quello che faccio che faccio ora erano non erano non erano politici in un certo senso ma erano diciamo riguardo le politiche della classe in cui ero quindi facevano diciamo prendevano in giro i miei professori e cose del genere ma poi come mai appunto hai scelto tra appunto hai provato tante strade ma poi ti sei fermato sui videogiochi come mai cioè cosa hanno in più se hanno qualcosa in più rispetto al resto o di diverso diciamo sì guarda ti dirò sostanzialmente penso che non ci siano almeno tuttora non ci sia non ci sia molta gente disposta a fare quello che sto facendo ci sono ottimi fumetti creatori di fumetti completamente sconosciuti che vendono dieci copie e sono capolavori perché ero appunto abbastanza appassionato di fumetti consigliacene uno così ci ampliamo un po' cinci anni fa c'è lo ero ho perso un po' traccia ma sì tipo Joe Sacco ci sono ottimi fumetti che più o meno coprono simili tematiche ci sono ottimi gruppi musicali di cui gente non sente parlare molto saturato ma semplicemente sono arrivato alla conclusione che non ci fossero molte voci alternative all'interno dei videogiochi nel mondo dei videogiochi quindi finché finché quello che faccio non diventa la normalità e finché non ci sono molte altre persone che fanno esattamente quello che faccio o possibilmente meglio penso che continuerò e ti ho fatto questa domanda anche perché tra le altre cose appunto The Best Amendment sarà il primo credo gioco di moda industria che viene venduto invece di essere dato gratuitamente viene venduto sotto la formula del pay what you want quindi si può avere in cambio di una cifra scelta libera senza limiti senza cifre prefissate e poi i ricavati verranno usati per finanziare una serie di workshop all'interno di un evento che si chiama Allied Media Conference Renzo che si terrà a Detroit a giugno e in cui parteciperanno diversi artisti e media maker impegnati nell'attivismo sociale provenienti appunto da vari ambiti credo che tu sia l'unico che proviene dal mondo dei videogiochi sbaglio si come funziona si come posso confessare che The Best Man non era inteso non doveva essere un gioco diciamo importante lo sto spingendo un po' più insistentemente semplicemente perché è un modo per raccogliere fondi per organizzare questa conferenza non è esattamente una conferenza è una diciamo una traccia una sezione di questa conferenza dedicata ai videogiochi quindi stiamo invitando altri game maker impegnati diciamo così per insegnare dei workshop a attivisti e spesso sono diciamo giovani adolescenti preadolescenti di Detroit specialmente in comunità diciamo marginalizzate e sostanzialmente insegniamo insegniamo a creare i loro videogiochi o almeno a pensare in termini di videogiochi quello che possono fare per le loro cause per le questioni sociali che portano avanti quindi diciamo così sì non c'è non c'è sponsor è più diciamo è ancora a livello più base del degli sviluppatori indipendenti diciamo nell'ambito DIY sono gli indipendenti degli indipendenti e no appunto ricollegandomi a quello che dicevamo prima nel tuo blog in uno dei post appunto dedicati a questo evento scrivi attenzione che questo sarà un evento che non sarà dedicato ai geek agli appassionati di videogiochi quindi non so forse è un'interpretazione mia ma tu un po' tendi a a distanziarlo il mondo tra virgolette dei videogiochi tra virgolette non non dico mainstream ma comunque dei videogiochi in senso stretto tu un po' ti ci metti al lato mi sbaglio eh beh sì per farci capire non sono al GDC in questo momento e tutti quanti pensano che sia che sia la mi stanno messaggiando selvaggiamente perché la 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 consuetudine se sei negli Stati Uniti ma anche se non se sei in giro per il mondo è che in questa settimana chiunque fa videogiochi in un senso vagamente seriamente chiunque fa videogiochi si trova al GDC in San Francisco e io c'ho altre cose da fare ho capito sì diciamo che comunque un po' ti è un'altra un'altra domanda a questo riguardo più o meno collegata è quella che io appunto prima di organizzare questa intervista ho anche chiesto un po' nel forum di IndieVolt se c'era qualcuno che voleva chiederti qualche cosa e ha risposto un ragazzo Vincenzo De Lucia che saluto che voleva chiedere se riassumo molto quello che ha scritto se non ci sia diciamo un condizionamento nella creazione di videogiochi proprio derivante dal termine stesso gioco cioè se non sia proprio il fatto di di dire adesso faccio un videogioco il fatto che poi mi limita tra virgolette nelle tematiche che io possa trattare nel magari affrontare tematiche che non si ricollegano direttamente tra virgolette al gioco che cosa ne pensi se anche appunto dal punto di vista della tua del tuo metterti al lato del tuo io sono io poi quelli sono geek che giocano i videogiochi io uso questa forma però non mi considero tra virgolette poi ripeto questa è un'interpretazione mia però non mi considero tra virgolette parte di quell'ambiente lì e appunto ti chiedeva se secondo te non il fatto che ci sia questa cultura tra virgolette geek appassione di videogiochi non derivi anche dal fatto del termine del considerarli dei giochi alla loro radice nel loro DNA sono appunto dei giochi e basta e quindi non possono arrivare molto oltre non so quale possa essere la tua opinione a questo riguardo sì ti dico semanticamente l'inglese ha un vantaggio che ci sono due parole per due principali aspetti del gioco c'è game e c'è play diciamo il giocare e il gioco e penso che più recentemente diciamo i commentatori più diciamo sofisticati sono stanno ridando enfasi all'aspetto del play e specialmente trascurando un po' mettendo un po' da parte l'aspetto tecnologico se inizi a considerare i videogiochi come giochi o se inizi a considerare i videogiochi all'interno di un ambiente molto ampio dei giochi che includono i board game che includono i giochi di società diciamo come li chiamano i parlor games includono gli sport perché no non pensiamo mai ai videogiochi in relazione agli sport arrivi alla realizzazione che i giochi non sono poi una questione così cioè sono una cosa abbastanza seria e non marginalizzata sono un rituale che è una forma culturale che è gestita da millenni e che è sempre stata in un certo senso molto centrale ci sono tuttora milioni e milioni di persone che sono profondamente interessati e appassionati agli sport quindi una volta che vedi i videogiochi in questa prospettiva e sei disposto diciamo ad abbandonare un po' l'aspetto del feticio tecnologico dell'implementazione del computer una volta che li vedi in questo senso secondo me appaiono immediatamente come qualcosa di più serio o più di rilievo quindi tu dici se noi sfondiamo l'esperienza da tutti i suoi orpelli ci troviamo di fronte ad un'essenza che può essere anche interessante o addirittura storicamente i videogiochi sono partiti come un oggetto tecnologico li vendevano nei negozi di giocattoli li vendono tuttora secondo me immagino nei negozi di giocattoli beh adesso diciamo si sono consolidati in un settore suo ma non so penso che il nintendo nes era distribuito originariamente nei negozi di giocattoli quindi l'aspetto diciamo non serio e l'aspetto triviale del videogioco è dovuto questa origine diciamo di giocattolo tecnologico ecco mi fa piacere che tu abbia citato le tecniche di marketing di nintendo perché così mi aggancio alla prossima domanda che ti volevo fare e vedendo il tuo curriculum sono andato nel tuo sito e ho trovato anche un link al tuo curriculum hai elencato le varie esperienze anche non lo so se collaboravi con guerrilla marketing o era tipo non so in che fuoco comunque hai scritto di aver fatto parte appunto di questa organizzazione che se non ricordo male ha un po' sfruttava il viral marketing prima che esistesse il viral marketing correggimi se sbaglio sì sì ho partecipato però per un certo periodo il virilla marketing era composto da tipo tre persone e ero parte diciamo più o meno dal 2005 al 2007 ho lavorato con loro quindi facciamo campagne di ogni tipo diciamo campagne alternative a volte facevo cose online a volte semplicemente diavamo cose per strade non so quel marketing alternativo è più o meno l'idea di fermiare ogni spazio con messaggi pubblicitari è un'idea orribile ma è quello che si faceva per campare sì e poi tra l'altro comunque se non ricordo male appunto era viral nel senso che venivano sfruttati i grandi mezzi di comunicazione giornali anche se non mi sbaglio tv creando notizie o comunque eventi che richiamassero l'attenzione che poi appunto si si diciamo propagassero in maniera virale attraverso tra virgolette sfruttando il sistema ecco se questa può essere una definizione congrua e ad esempio mi viene in mente quello che è successo con phone story che è per l'app store che appunto io non credo che tu quando lo pubblicasti non fossi al corrente che probabilmente te l'avrebbero segato dopo pochissimo dall'app store però comunque questo ha fatto sì che il gioco comunque acquistasse visibilità perché oltre ad essere appunto un gioco che parlava di una tematica importante si è creato anche il caso del gioco che è stato che critica apple ed apple l'ha rimosso quindi ne eseguirono tutta una serie di articoli post considerazioni riflessioni e insomma sei riuscito ad avere una buona visibilità anche grazie a questa questa ritorsione tra virgolette di apple diciamo che c'era c'era il piano il piano era semplicemente quello di avere il gioco disponibile sull'iphone e quello era il mio obiettivo principale avrei preferito avere il gioco semplicemente disponibile per iphone anche in quel caso il gioco era usato come come mezzo per diciamo fare fundraising quindi diciamo ottenere fondi per associazioni no profit quindi quella era l'idea originale poi c'era un piano di contingenza cosa succede se ce lo rifiutano non avevamo veramente pensato a cosa sarebbe accaduto se ce l'avessero accettato prima e rifiutato subito dopo che è quello che è successo quindi c'è un po' disprovvista però in quel caso lì si dice oh guarda un po' ce l'hanno ce l'hanno bandito e perché perché il gioco di per sé non cercava di essere diciamo seguire le linee guida le linee guida non sono non sono così severe in un certo senso sono molto generiche e quello li consente di eliminare dal market qualsiasi cosa non considerano controverso o provocatoria però le linee guida semplicemente vogliono non si limitano che so cose sessuali pornografiche limitano infrazione di copyright e in font story non c'era non c'era niente di particolare e poi c'è questa c'è questa sorta di scappatoia che è il contenuto questionabile questionable content che non vuol dire niente che vuol dire semplicemente decidiamo noi alla fine quello che vogliamo avere quindi in un certo senso si ha ottenuto probabilmente più copertura mediatica di quello che avrebbe ottenuto normalmente diciamo come la notizia sarebbe stata o c'è un videogioco per iphone che commenta che critica l'iphone quella sarebbe stata la notizia ma l'idea del il ban dall'app store si diciamo ha creato molto più molto più clamore per curiosità il piano di contingenza quello in cui non l'avessero accettato qual era? è semplicemente di pubblicarlo su android e rendere pubblico il rifiuto o possibilmente cercare di riapplicare cercare di farlo riammettere magari facendo modifiche stavamo pensando a varie idee comunque sia in un certo senso si ok ho ricevuto più attenzione mediatica ma in un altro senso il problema è che il discorso è cambiato dal messaggio diciamo dalle questioni originarie che è oh che cosa c'è dietro il telefonino quali sono diciamo gli impatti ambientali e sociali dell'elettronica di consumo è passato da quel discorso lì che è quello del gioco vero e proprio al discorso oh le politiche di Apple e Apple fa questo e Apple fa quello che è comunque interessante una forma di censura di mercato che è tuttora molto specialmente ci sono stati un paio di casi più recenti negli ultimi mesi quindi è una questione importante ma non è la questione su cui mi volevo focalizzare quindi c'è un po' un elemento di fregatura quando ti costringono a una mossa difensiva comunque il discorso è ritorna incentrato sulla sulle politiche della Apple invece che il consumismo digitale sì che poi tra l'altro a proposito di consumismo digitale così al volo ti chiedo se hai provato Little Inferno e che cosa ne pensavi se l'hai provato sì sì è ottimo penso che sia finalista nell'IGF l'ho provato in anteprima eccetera perché quello ad esempio è un gioco che ha una sostanza per riprendere il termine di prima ha una sostanza molto pesante però la la esplica forse in maniera un po' più un po' più sottile rispetto a quello che di solito fanno i tuoi giochi non lo so secondo te è sottile? l'ho giocato fino alla fine? sì sì no l'ho giocato fino alla fine e appunto avendolo giocato fino alla fine lì diciamo che mentre appunto nel in Unmanned oppure in The Best Manned o negli altri giochi comunque di Molindustria per quanto non sia spiattellata tra virgolette come dicevamo prima la ritrovo una morale in cioè la sento comunque la presenza di una morale in Little Inferno invece questa morale che comunque c'è ed è molto forte è molto pregna però la vedo un po' ancora più sullo sfondo però proprio perché ancora più sullo sfondo la sento ancora più come una come una presenza ancora più non invadente però che che si sente che si fa sentire un po' forse come dicevi tu prima di occupare tutti gli spazi senza però tra virgolette senza che uno se ne accorga non so sì ottimo è uno dei miei favoriti del 2012 per me è importante quando un medium come quello dei videogiochi inizia a diciamo a riflettere su se stesso quello secondo me è un passaggio fondamentale per ogni forma culturale se ci pensi il cinema è iniziato più o meno negli anni 60 70 con la Nouvelle Vague con Antonioni con Godard ha iniziato a creare riferimenti al cinema stesso a diventare un modo per investigare non solo diciamo le relazioni umane la condizione umana o altri altri temi ma il cinema stesso l'impatto culturale del cinema stesso se pensi a fino all'ultimo respiro di Godard per esempio o di Antonioni che diciamo è sullo statuto sociale delle immagini e come le immagini fotografiche diventa una prova di un'esistenza materiale secondo me è interessante che finalmente abbiamo giochi specialmente giochi di un certo profilo come Little Inferno che è diciamo molto ben prodotto che riflettono sui videogiochi stessi sì prima ti ho fatto la domanda sul marketing perché vedo che comunque sei molto per quanto magari non volontariamente a volte come nel caso di phone story comunque sei riuscito ad acquisire una certa visibilità oltre che per i giochi che sono stati prodotti da molte industrie anche per il modo in cui sono stati presentati con cui sono stati proposti eccetera eccetera e volevo chiederti insomma se avevi qualche consiglio da dare agli sviluppatori indie perché poi alla fine per gli sviluppatori indie c'è questo annoso problema che sì tutti quanti possono sviluppare videogiochi però poi è difficile comunque emergere è difficile anche se poi uno tu vabbè come l'industria non hai prospettive non hai obiettivi di guadagno economico però molti sviluppatori indie vorrebbero diciamo tra virgolette darsi pane anche facendo quello che gli piace fare però spesso si ritrovano nel problema di non avere visibilità di non riuscire non riuscire neanche a far sapere al mondo ehi ci sono anch'io per cui insomma magari se tu che comunque ritengo essere una persona che si sa muovere molto bene in questo ambito se avevi qualche dritta da dare no non è vero non mi so muovere per niente sono sono carribile a fare autopromozione specialmente in questi in questi tempi dove c'ho giovani sviluppatori più giovani di me sono molto più bravi nel senso che fanno le loro campagne iniziano a parlare a dare indiscrezioni annunciare i loro giochi mesi prima creano un'attesa creano un hype e finalmente quando lo lanciano che so ottengono ottima copertura mediatica è una cosa che proprio non riesco a fare al massimo beh però scusa per best amendment hai detto che con tutto che è un gioco secondario comunque sei finito su kotaku sei finito su games industry su the verge e quant'altro diciamo che la copertura è avvenuta prima su media che si interessavano non tanto a videogiochi ma alla questione perché è una questione di attualità quindi non è automatico se fai un gioco sull'attualità ottieni immediatamente copertura mediatica ma è possibile che fonti non specifiche sui videogiochi la stampa non di settore si interessi di più specialmente se è la cosa giusta da fare nel momento giusto e in questo momento negli Stati Uniti non in Italia in questo momento la questione del controllo delle armi in relazione ai videogiochi l'abolanza nei videogiochi è una questione molto discussa anche tuttora a differenza di vari mesi si in effetti anche su Indivote abbiamo organizzato una gem a sfondo elettorale in occasione delle elezioni un po' di copertura siamo riusciti ad averci anche con questi giochi così per altre questioni il mio unico suggerimento è per quanto abbia sentimenti contrastanti riguardo al GDC all'Independent Game Festival se spedisci diciamo se fai una submission se partecipi a questi concorsi a questi festival sostanzialmente il GDC IGF e Indicade se il gioco vale la pena se il gioco è decente puoi stare tranquillo che viene scoperto un esempio di questo genere è questo gioco che tutti quanti hanno diciamo mancato che si chiama Starseed Pilgrim Starseed Pilgrim sta venendo fuori è un po' a ritardo stessa cosa per Cart Life che potenzialmente potrebbe vincere il gran premio dell'Independent Game Festival e nel suo steam ma questo questo è un tipo completamente disconnesso dalla diciamo comunità indipendente non è una una persona che diciamo bazziccava certi ambienti certi circoli eppure il suo gioco è stato scoperto e riscoperto a distanza di mesi ed è venuto insomma è venuto a galla anche se è un blocco molto difficile molto difficile da approcciare aggressivo in un certo senso quindi ho una certa fiducia che i sistemi di filtro funzionano funzionano abbastanza bene raramente mi è capitato di trovare un prodotto che fosse completamente ignorato e completamente geniale in un certo senso eh sì ti volevo chiedere se avevi mai pensato di fare un gioco sul SEO no facile da rispondere no e se che cosa ne pensavi di Uia se era una piattaforma che diviene interessante anche per il tipo di giochi che fai tu oppure se preferisci comunque rimanere su PC o su iOS al massimo è possibile è possibile penso che ci sia una una discreta attenzione una certa aspettativa su Uia quindi l'ho provato non sembra male i prototipi che sono in giro in questo momento non non credo possano possano diciamo essere apprezzati o presi sul serio dai giocatori seri perché ha un po' questa dà un po' il senso di un giocattolino made in China anche se tutto è made in China ma dà ancora un po' un po' questo aspetto diciamo di cosa buon mercato ma penso che sia una piattaforma interessante mi piace il fatto che sia open source la gente di Uia mi ha già contattato per creare contenuti per creare giochi penso che abbia la politica che è tipo basata sul free to play tutti i giochi devono essere in un certo senso gratis e basati su praticamente acquisti all'interno del gioco questo mi sembra sì o acquisti all'interno del gioco oppure si acquista la versione completa e quindi il gioco che ti scarica una demo che poi devi sbaccare con un acquisto in game sì sostanzialmente però sì non vedo l'ora di vedere come va sicuramente considererò di creare giochi per quella piattaforma anche perché a volte è utile avere un controller analogico quella è una cosa che diciamo con le bette analogiche è una cosa che non puoi fare con pc e me e niente va bene non ti trattengo oltre grazie mille paolo per la tua disponibilità per il tuo tempo è stata almeno per me una chiacchierata estremamente interessante ti ringraziamo quindi per la tua disponibilità e niente salutiamo ciao paolo ciao ciao a tutti ciao e al prossimo video mi raccomando e fate tutto quello che dovete fare su youtube ciao paolo grazie di tutto e alla prossima ciao ciao ciao